Assegno unico universale, figli minorenni, figli maggiorenni e detrazioni per i figli. Facciamo un po' di chiarezza. Dalla nascita fino alla maggiore età c'è l'assegno unico universale. Normalissimo, quindi si presenta la domanda e si prendono i soldini mensilmente. Alla nascita fate il codice fiscale, presentate il modello ISEE, lo aggiornate inserendo il codice fiscale del bambino appena nato e percepirete anche i mesi anteparto. Che cosa succede a diciottesimo anno di età? Bisogna aggiornare la domanda, quindi quando un figlio diventa maggiorenne si aggiorna la domanda perché se no si stoppa l'assegno unico universale. Si continuerà a percepirlo fino a 21 anni. L'assegno unico fino a ventunesimo anno di età ha risucchiato i vecchi bonus bebè, mamma domani e detrazioni familiari a carico per i figli. Dal ventunesimo anno di età in poi, dai 21 anni fino ai 24, si potrà portare in detrazione il figlio se non lavora o se lavora e ha un reddito inferiore ai 4.000 euro. Dai 24 anni in poi il reddito non deve essere superiore ai 2.840, fermo restando che se il figlio non lavora si può comunque portare in detrazione. Per chi va all'università facendo il modello ISEE universitario ha diritto anche all'agevolazione sulle tasse universitarie. Per le vostre domande scrivetemi.